Questa rassegna stampa è offerta da ICM, Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli. Radio Surgery Center di Agropoli. Buongiorno, buon sabato, bentrovati a questo primo appuntamento di giornata con l'informazione di TVI Molise. Nuovi impianti sportivi e miglioramento di quelli esistenti. A Isernia il primo cittadino, Castrataro, annuncia importanti interventi sulle infrastrutture sportive della città. Ce ne parla Carla Marino. Sport, il comune di Isernia annuncia una vera e propria rivoluzione per gli impianti cittadini. Tra interventi su quelli già esistenti e strutture da realizzare ex novo, il capoluogo Pentro si appresta a offrire nuove e molteplici possibilità agli atleti professionisti e ai semplici appassionati. I dettagli sono stati illustrati dal sindaco Piero Castrataro in conferenza stampa. Si parte da un nuovo impianto alle piane in località Tremolicci. Sono 1.700.000 euro di investimenti, campo in erba sintetica, doppio spogliatoio, illuminazione, in modo da consentire alle squadre di calcio e soprattutto ai numerosi adolescenti e bambini che giocano di avere un'infrastruttura dove potersi allenare e poter giocare fino alle categorie a cui sarà dedicato. Questo consentirà di utilizzare il campo sportivo Lancellotta solo quando ci sono le gare e nel caso di allenamenti di finitura e quando ci sono competizioni per quanto riguarda l'atletica di un certo livello. Lo stadio Lancellotta invece sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria. Sono partiti, pur se con qualche giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia, gli interventi di ripristino del manto erboso, cosa che consentirà alle squadre di calcio di utilizzare la struttura a partire dalla metà di ottobre. Scongiurata quindi l'ipotesi paventata da alcune società di doversi recare fuori città. Sono partiti i lavori per quanto riguarda la manutenzione straordinaria dello stadio. Verranno fatti in due step. Il primo ora garantire planarità e drenaggio, irrigazione del campo. Il secondo per diserbo delle erbe infestanti e risemina che verrà fatto in primavera. Molto probabilmente in primavera verranno rifatti anche tutti i drenaggi attuali con un sistema diverso che garantisce che anche in condizioni precarie perché c'è pioggia si possa garantire lo svolgimento delle partite. Al tempo stesso viene assegnata a brevissimo la gara dell'antistadio. Anche lì circa 400 mila euro di investimento per avere un nuovo manto sintetico con caratteristiche migliori. E in quell'area abbiamo comunque anche il nuovo pistino per poter fare delle gare in periodo invernale. Novità anche sul fronte dell'atletica leggera. Vedremo di realizzare un piccolo campo di allenamento soprattutto per il peso e il martello in modo che il campo lanci e lotta venga utilizzato per l'atletica solo per i lanci, solo quando ci sono manifestazioni di un certo livello. Alla voce piscina comunale il primo cittadino ha specificato che a breve partiranno i lavori del lotto 1. Sulla piscina abbiamo deciso di fare due lotti, un lotto totalmente finanziato con le risorse attuali, quindi si parte abbastanza rapidamente il progetto esecutivo è terminato. Il secondo lotto da finanziare con un ulteriore mutuo da circa ulteriori 2 milioni per completare la parte impiantistica e di efficientamento energetico. Attenzione anche alle borgate nel piano dei futuri interventi. Il Castel Romano con il rifacimento del campetto, progetto esecutivo già pronto, quindi solo da andare in appalto. L'area anche, ecco quella che abbiamo fatto fitness sempre alle piane. A breve spero di poter annunciare anche la totale demolizione e ricostruzione della palestra della San Giovanni Bosco. Intanto il palazzetto dello sport dà l'addio ai vecchi impianti di riscaldamento per abbracciare l'energia green. Primo immobile del comune di Sernia a non avere più le caldaie, a non bruciare più metàio, essere alimentato solo con energia elettrica verde. Ecco speriamo che questo sia un segno per tutta la città. Un segno, intanto dunque abbiamo sentito tra centro e periferia diversi gli interventi in programma. A proposito di programmi noi iniziamo con il quotidiano del Molise.it, la nostra rassegna. Gigafattori Termoli, la regione assicura il suo impegno con Stellantis e Governo nazionale. Li parte la pneumologia d'Agnone, a rischio emodinamica Isernia si chiede e chiede il quotidiano. Migranti, Roberti dal ministro dell'interno Piantedosi, strutture sì per l'accoglienza, ma solo fuori dai centri urbani, questa la richiesta il desiderata. Molise Oggi News, Forciniti ex dell'era Frattura, in pol per la direzione dell'Asrem. Ad Agnone parte la pneumologia grazie all'arrivo della cabina pletismografica, mentre a Isernia viene potenziata la medicina dello sport. Abbiamo spostato tale cabina, ha commentato ai nostri microfoni il commissario Marco Bonamico ad Agnone. Era a Campobasso inutilizzata, mentre al Caracciolo c'è una pneumologa molto brava che non poteva operare senza i mezzi necessari. Con questa segnalazione passiamo ai giornali in formato digitale, naturalmente. Iniziando da Nuovo Molise, Stellantis, Urso spinge per l'Abruzzo, tace sul Molise. Nelle stesse ore in cui Roberti incontrava i sindacati per parlare di Gigafactory, a Pescara il ministro rilanciava l'automotive abruzzese, zittendo sulla rivoluzionaria fabbrica molisana. Le ombre che avvolgono il futuro dello stabilimento di Termoli, scrive il giornale regionale, non sono fugate da Zaia il coraggio che manca a Roberti, la bocciatura dei centri rimpatri. Il governo leghista dimostra con i numeri la sua contrarietà. Il collega del Molise si fa scudo dell'ambiguità, dunque la critica del giornale. In Molise boom di fallimenti, da noi la percentuale più alta dell'azienda che mollano i dati preoccupanti, neanche a dirlo, del Cervet sulla chiusura delle imprese. Comegna mostra i trabocchi alla Cina, il fotografo di Capracotta nel Xinjiang. L'iniziativa, i chapter di Boiano a Filadelfia, sei borse di studio americane domenica a Prodano, appunto, nel centro Matesino. Ma noi lasciamo il centro Matesino e Nuovo Molise per passare all'altro regionale, primo piano, San Vincenzo, patrimonio UNESCO, ambiente decisivo nell'attribuzione del riconoscimento. L'organizzazione delle Nazioni Unite valuta e premia gli esempi straordinari di interazione tra uomo e territorio. Non basta solo essere belli. Pizzone 2 può compromettere l'esito per l'abbazia benedettina. Nuova assemblea sul lago, la regione ribadisce il suo no, cantanti e attori in difesa del sito per Palazzo Daimmo, Passarelli, Salvatore e Dilucenti. A proposito della questione del progetto Pizzone 2, storia di Enel, stile anni 60 nella terra degli orsi. Ne scrive Giancarlo Pozzo, ex questore e residente. A San Vincenzo i centri per i rimpatri, il sindaco di San Giuliano smonta le ipotesi sul villaggio, la struttura realizzata dopo il sisma del 2002 non ospiterà i migranti ma fa sapere un centro di formazione della Croce Rossa. Sensibilizzazione, questo l'obiettivo, Palazzo Vitale dunque si tinge di viola per la giornata dell'Alzheimer, Montenero, Diocesi in festa per i 60 anni di sacerdozio di Don Murazzo. Sport, campo basso per il rosso-blu, domani l'esame di Ascolano, tra virgolette Pirozzi. Gara dura per noi, Isernia, ecco l'attaccante Daniel Flebes, oggi trasferta sul campo della Cliternina. Basket, test precampionato ad Agropoli per la Magnolia. Pagine interne, a San Giuliano un centro di formazione per la Croce Rossa, parola del sindaco, e poi CPR, la CGL si schiera contro il Molise di Canò e spunta un decreto 5.000 euro per evitare i centri, la granzia a carico del richiedente asilo che non vuole essere trattenuto. Questa storia, questa ipotesi dei 5.000 euro viene ripresa anche in toni polemici dai quotidiani nazionali, lo vedremo a breve. Siamo intanto sulla prima delle pagine dedicate a Campobasso, antitruffa, show, firmato il protocollo in prefettura, il progetto prevede un percorso formativo per gli anziani, come attraverso il teatro sociale impareranno a non cadere nella trappola. Isernia, scoppia il caso Falcione, doveva astenersi salvo grazie al suo stesso voto, per questo la deliberazione è a rischio impugnativo, addirittura annullamento, secondo la norma e lo statuto non avrebbe potuto partecipare il consigliere, altra l'interpretazione degli uffici comunali. Il mese è dedicato all'Alzheimer, flash mob per non dimenticare, stasera in Piazza Celestino V, quindi nel cuore del centro storico del capologo Pentro, in collaborazione con Time to Dance, e non ti scordar di me. Dai Sernia Venafro il salto è breve, PNRR Palazzo Cimorelli assume nuovo personale, il Comune cerca un esperto di particolare e comprovata specializzazione per il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo delle attività di gestione. Sezioni primavera via alle manifestazioni di interesse, domande che dovranno pervenire tassativamente entro il 27 di settembre. Eccoci in basso Molise, Rieco Sud e Comune, stop all'inciviltà in città, la città in questione è Termoli, l'assessore Colaci e Di Campli hanno ribadito la linea della fermezza su conferimenti scorretti, problema quello dei conferimenti scorretti che interessa tante realtà in Molise e altrove. Corriere della Sera, l'apertura naturalmente è dedicata all'addio a Napolitano, il Presidente delle Scelte Difficili è scomparso all'età di 98 anni, la malattia e la morte ieri sera. Cambia la tassa sulle banche, gli istituti che rafforzano il capitale non pagano debito rischio da 130 miliardi, accordo raggiunto nella maggioranza, Giorgetti sulla manovra, basta prebende che illudono le persone, la Repubblica oltre all'articolo e al saluto al Presidente Napolitano si occupa della crisi dei migranti in piena evidenza in prima pagina, strappo con Berlino, Meloni all'angolo, la Ministra dell'Interno tedesca Faser ingiunge a Roma di rispettare il trattato di Dublino. Palazzo Chigi esprime stupore e chiede chiarimenti sui soldi alle ONG che operano in Italia, soldi elargiti dalla Germania. Il Fatto Quotidiano, un anno di Meloni, fatti bugie e omissioni, fa anche rima il bilancio, il governo si celebra con un opuscolo pieno di dati falsi, scrive il giornale Il Fatto Quotidiano, il libro dei sogni, PIL, lavoro, bonus 110, reddito di cittadinanza, giustizia, RAI, migranti, ed altro la Premier, vanta successi che, come dicevamo, il Fatto ritiene in realtà inesistenti. Il solo 24 ore, BTP, acquisti italiani per 120 miliardi, il 6% della ricchezza finanziaria totale, a proposito di titoli di Stato, tra aprile e luglio 2023, domanda per 40 miliardi di euro dagli investitori esteri e questo è un buon segno per il fatto che, appunto, fuori gli imprenditori esternieri credono nel sistema Italia dal punto di vista della solidità economica. Il mattino, con il titolo, l'apertura dedicata al Presidente di Napoli, Giorgio Napolitano, si è spento a 98 anni dal Partito Comunista Italiano fino al doppio mandato al Quirinale, il cordoglio del mondo della politica e del Papa, il legame indissolubile con la sua città. E noi siamo ora sulla stampa, anche qui, grazie Presidente, Antonio Bravetti, Paolo Colonnello, Ilario Lombardo e Stefano Fanini hanno firmato una sorta di speciale per ripercorrere la vita politica del Presidente scomparso ieri e siamo sull'avvenire, bivio di civiltà, il Papa Marsiglia nel Mediterraneo con i migranti ha affogato anche la dignità umana grazie alle ONG non va ostacolato a chi salva le persone, abbandonarle, un crimine, l'incontro di vescovi e giovani nella città francese per il confronto sulla cruciale questione il Cardinale Bassetti, nessuno Stato, va lasciato solo, in riferimento naturalmente è all'Italia. Poi il giornale che a proposito della scomparsa del Presidente Napolitano apre con un titolo critico, una sorta di stoccata a fine del comunista che ha usato la democrazia e noi con questo lasciamo il quotidiano di Milano, il manifesto, il prezzo della libertà. A proposito dei 5.000 euro di cui parlavamo all'inizio della nostra rassegna, sono i soldi necessari per evitare di finire dentro. Il governo inventa un pizzo di Stato così definito dal manifesto per i migranti destinati al rimpatrio. Per loro una trappola crudele impossibile da evitare e contraria alle leggi europee. Palazzo Chigi è già sul piede di guerra con la Germania aiuta le ONG. Libero tassato chi sbarca, linea durissima, i migranti dovranno versare 5.000 euro, altrimenti finiranno nei centri e la Germania sfida l'Italia. Finanziamo le ONG e l'Ira, neanche a dirlo, di Palazzo Chigi. E siamo sullo sport con la rosa, la gazzetta. Voglio un Milan Lodetti, l'esempio del campione scomparso ieri che non mollava mai. Pioli, l'allenatore rossonero, cambia a San Siro con il Verona, chiede di ritrovare l'anima del Milan e, peraltro, senza alternative spreme l'attaccante a dir poco longevo Giroud. E Inter ti prendo, Juve, io scappo alle 18 Allegri col Sassuolo, domani in Zaghi a Empoli prosegue la corsa, almeno questa l'intenzione delle due protagoniste in vetta al campionato. Bene, con questa segnalazione si chiude la rastina stampa di oggi, come sempre grazie per averci seguito, per essere stati con noi nel salutarvi e vi rimando all'appuntamento in diretta con il nostro telegiornale a partire dalle 14. Mi raccomando, non mancate. Intanto a tutti l'augurio di una buona giornata. Questa rassegna stampa è offerta da ICM, Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli. Radio Surgery Center di Agropoli. Il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino. Benvenuti al meteo di TVI Molise. La discesa perturbata proveniente dal Mar Baltico ha comportato condizioni di forte maltempo su buona parte della regione e fenomeni annessi anche intensi. Per questo weekend ci sono importanti novità che arrivano dal fronte meteorologico. Infatti la goccia fredda transitata sul nostro territorio ieri andrà a costituire un minimo depressionario che si prevede sullo Ionio e che come risultato apporterà fenomeni intensi su tutto il meridione. Sulla nostra regione si prevede quindi una recrudescenza a partire dalla giornata di domenica lungo il litorale dove sono attesi fenomeni molto forti anche a carattere grandinigeno. Ma ora diamo uno sguardo alle previsioni per la giornata di oggi sabato 23 settembre. In mattinata insisterà dell'instabilità sui settori occidentali della regione accompagnata da rovesce temporali anche forti ma con tendenza al miglioramento dal pomeriggio con ampie schiarite specie sui settori orientali. Dalla sera è previsto un nuovo peggioramento lungo la costa venti dai quadranti sud occidentali mare poco mosso temperature campo basso minima 17 massima 22 esernia minima 19 massima 22 termoli minima 22 massima 25 benafro minima 20 massima 23 vediamo adesso che tempo farà per la giornata di domenica 24 settembre per la giornata di domani sarà presa di mira dal maltempo stavolta la costa adriatica con fenomeni che in un primo momento dovrebbero risultare non particolarmente intensi ma nel pomeriggio è prevista una ricorgescenza del maltempo con fenomeni temporali schi anche forti e locali grandinate le precipitazioni diffonderanno a tutta la regione ma stavolta con un minore interessamento dei settori occidentali venti rotazioni dai quadranti settentrionali mare poco mosso ma con motondose in aumento fino a mosso dalla sera temperature campobasso minima 13 massima 18 esernia minima 16 massima 19 termoli minima 19 massima 20 venafro minima 16 massima 22 benvenuti all'oroscopo di oggi sabato 23 settembre ariete in amore in amore le stelle spingono al dialogo e sul lavoro sono favoriti tutti quelli che lavorano in un settore creativo mostrerete a tutti di avere grande spirito d'iniziativa toro con la luna favorevole l'amore può brillare e regalare grandi emozioni sul lavoro attenzione alle nuove proposte anche se avete voglia di cambiare aria valutate prima pro e contro gemelli non è un momento facile per l'amore ma bisogna continuare ad andare avanti con pazienza sul lavoro c'è un po' di caos ma bisogna cercare di ritrovare un po' di tranquillità cancro venere dalla vostra parte quindi godetevi questa bellissima giornata d'amore sul lavoro vi sentite un po' stressati e siete in attesa di novità che però tardano ad arrivare leone in amore arriva il momento di passare più tempo con la persona che vi fa battere il cuore sul lavoro potrebbe esserci qualche discussione con un capo o un referente ma ne uscirete vincenti vergine questo weekend porta belle novità in amore sfruttatele al meglio magari riuscirete a trovare l'anima gemella o a fare importanti progetti con il partner sul lavoro se non avete ancora trovato un vostro equilibrio non scoraggiatevi arriverà presto bilancia se siete single questa è la giornata giusta per fare nuovi incontri sul lavoro c'è il sole che vi dà una bella spinta e vi porterà a risolvere un po' di rogne qualche problema magari nei rapporti con colleghi e collaboratori vedrete che presto andrà meglio ma siate più diplomatici scorpione l'amore procede alla grande soprattutto se il vostro partner è del segno della vergine o del capricorno sul lavoro riuscirete a mostrare di avere idee vincenti sagittario c'è un po' di nervosismo in amore cercate di tranquillizzarvi non tutto va per il verso giusto ma pian piano le cose si sistemano sul lavoro aspettatevi nuove proposte interessanti capricorno siete in una fase di benessere generale e aspettatevi di incontrare anche una persona speciale al lavoro ci sono ancora degli stop ma riuscirete presto a risolverli vedrete che tutto si aggiusterà serve solo un po' di pazienza e serenità acquario attenzione perché c'è un po' di agitazione nell'aria soprattutto se avete a che fare con vergine e capricorno al lavoro bisogna fare solo le cose in cui credete davvero pesci attenzione in amore perché potreste avere qualche ripensamento sul lavoro fate una cosa alla volta è l'unico modo per affrontare il grande carico di lavoro che avete che avete